Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, siamo in via Salvadori, un sottopassaggio che viene aperto o chiuso in base a come è il tempo. Oggi siamo passati, era di nuovo chiuso, e c'è il nostro amico Fausto Broggi che per attraversarlo e che ci ha segnalato questa situazione si è dovuto mettere insomma i suoi stivali, che qui la situazione è quella qua. Allora Fausto, ci va tutta la mano dentro? Tombino! Noi ci vediamo sempre quando piove. Ma noi siamo sempre qua con i problemi della pioggia veramente. E tu abiti qui vicino? Abito qui vicino, la situazione è abbastanza diciamo ormai al limite della sopportazione, perché come potete constatare questo asfalto è stato fatto nuovo lunedì mattina, domenica è stato smantellato dalla pioggia incessante, poi il comune molto selettamente ha provveduto a risolvere il problema. Però questa è la situazione che va avanti ormai a memoria dal 2006. C'era già, forse non mi ricordo se con il Luccherini 1 era assessore proprio il sindaco attuale Ghinelli, probabilmente correggimi se sbaglio, il problema è stato poi passato per due volte all'assessore Dringoli. Ora se lo ritrova Garunrini che noto e mi fa molto piacere che ha scritto che ci sono problemi di fogne comunicanti, ma secondo me i problemi sono qua. Sono qua, in questo fosso, che come potete vedere è colmo d'acqua, ma è anche pieno di erba. Se guardiamo sotto non si vede i tubi, ma qui ci sono dei tubi a occhiello che ne rallentano sicuramente il passaggio. Questa è la problematica. Se guardate più avanti in direzione del Vingone la situazione è la solita. Anno scorso bisogna essere sinceri che le ferrovie hanno provveduto a pulire, non ci sono stati questi problemi. Perché qui sopra passa il treno. Sì, passa il treno, purtroppo c'è un problema ormai che va avanti da anni, che la manutenzione spetta le ferrovie e il comune non... E questo è strano. E anche questo è strano, insomma, sembra che il comune non possa mettere in mano, il consorzio è altrettanto, quindi si fa un pochino il giochino del rimpallo, dello scaricabarile. Ecco, mi sono portato qui due appunti, scusate se leggo, ma vedo che la nostra Greta aveva fatto un'intervista al consorzio. Quello che è possibile noi lo facciamo, nuove acque, ognuno deve fare la sua parte. Tu hai fatto un commento bellissimo. Anche noi siamo qui a fare la nostra parte, insomma, a sollecitare il problema dopo dieci anni, insomma. Ecco, quindi anche i nostri amministratori facciano la nostra parte. Il comune mi dicevi che cosa ha fatto per risolvere, non ho capito. No, quando? Perché qui la storia è molto lunga. No, l'altro giorno. No, sì, sì, lunedì è stato riasfaltato tutto perché l'ondata di pioggia di domenica scorsa aveva fatto saltare tutto l'asfalto e molto solertemente l'azienda incaricata del comune ha rifatto il manto stradale. Però al di là della velocità di rifare il manto stradale il problema rimane. Quindi, cioè, qui la solerzia c'è, l'impegno c'è, però rimane il problema, insomma. Poi leggo che il Consorzio di Bonifica ha un progetto da 750 mila euro. Ho parlato domenica scorsa proprio con il segretario Lisi, mi ha detto che devono fare la seconda conferenza dei servizi, ma sicuramente poi ci saranno le spropie, ci saranno i contenziosi, quindi prima che l'opera verrà messa a regime, al minimo passeranno altri 4-5 anni. Addirittura, mi fido degli ingegneri, ma parlano di abbassare ulteriormente la luce di questo, alzare la luce di questo sottopassaggio quando qui sotto i nostri piedi a 80 centimetri passa una condotta del metano che quindi praticamente se facciamo due conti, praticamente in questo momento il metano è qui sotto, sott'acqua, insomma. Speriamo che il tubo, ecco, poi ora provvederemo anche a rimettere a posto il tombino perché, insomma, l'abbiamo rimosso noi. Il problema è questo, insomma, è un'ora fa l'acqua arrivava fino quasi, diciamo, in Via Nievo perché il problema è a noi della zona ormai noto, spero che lo sia l'amministrazione, quando qui il fosso, perché chiamarlo torrente, diciamo un'offesa per i torrenti seri, alza il livello, allaga il sottopasso e poi fa la curva verso destra in Via Nievo e va a incanalarsi nelle fogne e poi quando non bastano le fogne arriva fino a Via Romana, fino ad arrivare in Via Gapponi, allagato la Scuola Curina, che da qui sono 700-800 metri, insomma. No, è una cosa che poi, se considerate, quest'acqua che vedete qui proviene da Santa Firmina, no, non so se rendo l'idea, insomma. E quindi il problema del dissestro geologico, della messa in sicurezza, credo che questa amministrazione la debba mettere in cantiere al più presto, altrimenti qui la situazione è drammatica. Il sottopassaggio è chiuso, però qualcuno ci prova perché ormai l'acqua si è asciuga un po' e è andata via. Si è andata via ed è fluido, quindi giustamente ormai chi frequenta queste zone... Poi scusa, l'hanno chiuso solo dalla parte, diciamo, che porta alla cadela e dalla parte di qua... No, di qua c'è l'accesso ai residenti, quindi presumo che i residenti ormai sono dotati di canoa, di canotto... E' andato, è passato, è passato anche questo. Bene, Fausto, torneremo ovviamente a parlare... No, io spero di no, insomma, spero che prima di voi torni l'amministrazione a sistemare il lavoro. No, vorremmo parlare di questi problemi che ormai riguardano quasi tutti i sottopassaggi di Aghezzo. Ecco, questo è uno, diciamo, dei problemi che va avanti dagli anni. Grazie Fausto, a domani. Grazie a voi.